Eccoci qua con un altro Lego, questa volta dedicato a Paperino, questa è la serie Brickheads, quindi sono questi personaggi, non solo personaggi di fumetti, sono un po' personaggi di tutti i tipi ricostruiti con questi Lego, con questo stile un po' Deformed. Questo è dedicato appunto a Paperino, è 101 pezzi. Andiamo ad aprirlo, quindi abbiamo due sacchetti più o meno per dimensioni, pezzi più grandi e pezzi più piccoli, la base con cui volendo uno può mettere il proprio Paperino e le istruzioni, vediamo come sono fatte, sì diciamo sono abbastanza dettagliate, cioè ad esempio queste qua alla fine sono un pezzo per pagina, quindi questo è per dieci anni in su, però forse lo potrebbero montare anche i bimbi più piccoli, comunque ora lo andiamo a montare e vi faremo sapere se abbiamo incontrato qualche difficoltà. Ecco il nostro Paperino, allora è molto piccolo, quindi così più o meno, è molto carino anche dal vivo, ha un pezzettino se muovibile attaccato al suo cappello, è piuttosto facile da costruire, non c'è molto altro da dire, si monta anche piuttosto velocemente, ne prenderemo altri della stessa serie perché li mettiamo un po' in mezzo ai nostri fumetti, quindi continuate a seguirci e se volete iscrivetevi al nostro canale.